Ecco le tre razze di cani che consiglio per proteggere la tua famiglia. Al terzo posto, il Rottweiler. I Rottweiler entrano nella nostra lista come la terza razza di cane più temibile e protettiva. Originariamente allevati per il Pascolo e la Guardia del Bestiame, questi robusti cani sono noti per la loro presenza imponente e i loro istinti protettivi instancabili. Secondo, il Pastore Tedesco. Al secondo posto abbiamo il versatile e intelligente Pastore Tedesco. Questi cani possiedono un forte senso del dovere e un'eccezionale capacità di proteggere i loro compagni umani. I pastori tedeschi spesso servono in vari ruoli come cani da polizia o militari grazie al loro coraggio incrollabile e alla rapida capacità decisionale. Prima di rivelare la nostra scelta principale, diteci nei commenti il cane più aggressivo che abbiate mai incontrato. Al primo posto, il Kangal. Originario dell'Anatolia, in Turchia, i Kangal hanno una storia secolare di guardiani del bestiame. Con le loro dimensioni imponenti e i loro istinti protettivi incrollabili, eccellono nel dissuadere potenziali minacce e difendere con ardore ciò che è.